Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video, questo è il video dei prodotti finiti del periodo pensavo di averne pochi, invece sono abbastanza, quindi parto subito in realtà ho due prodotti che non sono finiti ma ora ne parliamo allora uno di quei prodotti che non è finito è questo contorno occhi della Sien della linea Cellular Beauty ve ne ho parlato anche nel video dei top e dei flop del periodo questo è un flop e non lo voglio più utilizzare, costa poco quindi posso anche liberarmene qui c'è scritto una mousse occhi, in realtà è un gel un po' meno appiccicoso rispetto a un normale gel un po' più morbido però comunque è un gel non lo trovo particolarmente idratante, assolutamente non nutriente e oltretutto mi invecchia il contorno occhi di 10 anni nel senso che mi va a segnare un sacco tutte le pieghettine della pelle, le rughettine anche quelle che di solito sono invisibili e quindi mi ritrovo con un contorno occhi completamente rugoso zero idratato, zero liscio, zero morbido quindi non vedo l'utilità, mi va solamente a peggiorare la situazione e non mi porta benefici quindi io non intendo più utilizzarlo anche perché ho dei contorno occhi migliori e la zona comunque è delicata e voglio trattarla come un prodotto migliore di questo l'altro prodotto che vado a cestinare perché ahimè è inutilizzabile per quanto mi riguarda è questa polverina volumizzante per capelli di balea questa qua ve l'ho mostrata in un video degli acquisti naturali del mese anche se in realtà gli ingredienti che vedete segnati con l'evidenziatore sono rossi nel biodizionario quindi non è assolutamente un prodotto naturale vado a cestinarlo perché l'ho utilizzato solamente una volta è una polverina bianca che appiccica un sacco i capelli sembra quasi di mettere lo zucchero filato quindi mi ritrovo con i capelli sporchissimi appiccicosi, proprio si appiccicano anche le mani si appiccicano tra di loro e prendano anche la piega che voi date con la mano perché essendo appiccicoso crea anche una sorta di gel quindi niente e non volumizza assolutamente per questo motivo lo butto via perché non ha senso di esistere questo prodotto peccato perché poteva essere un prodotto utile ma in realtà no ho utilizzato tre paia di patch occhi questi qua sono del marchio di Zao l'avevo acquistato sul sito Biomporio Natura in un set da 5 confezioni ne ho utilizzati tre sono all'acido di aluronico come sempre dei prodotti che vi mostro trovate la review nell'info box così potete trovare in ciappallini, prezzi, dove acquistare i prodotti eccetera ma questo tanto ormai lo sapete non lo troverete della polverina per capelli di Balea perché avendolo usato una volta sola non avevo voglia di spendere tempo per fare una review comunque torniamo ai patch occhi sono in hidrogel, sono molto imbevuti di siero rimangono ben aderenti alla zona io li tengo in posa per 20-30 minuti quindi dipende da quanto tempo ho e non scendono anche se si va in giro, si fa cose per casa eccetera rimangono ben aderenti sono molto distensivi, la zona è più tonificata, più luminosa le micro rughettine sparite ovviamente tutto è una cosa di istantanea nel senso dopo qualche ora le micro rughettine ritornano distende molto la zona, tonifica inoltre sono dei patch molto freschi quindi aiutano a sgonfiare anche le borse tonificano molto bene però non li promuovo a pieni voti perché a volte tipo su questi, su tre patch due mi facevano pizzicare molto la zona in ogni caso quando poi sono andati a toglierli il contorno occhi non era rosso, irritato il contorno occhi normalissimo però questa sensazione di pizzicore era veramente fastidiosa ne ho altri due, vediamo gli altri due come si comportano però comunque sono buoni mi sembra costino su 5-7 euro mi sembra 5 paia ma vengono anche venduti singolarmente ho terminato poi un prodotto make up questo era nel progetto smaltimento make up 20 in 2020 quindi vorrei finire 20 prodotti entro la fine dell'anno vi lascio il link di quel video questa era la pastello labbra che ormai non si legge più perché non ha più la punta mi sembra sfilata comunque vabbè di Neve Cosmetics mi piacciono molto queste matite mi sono resa conto che questo colore su di me non stava benissimo però l'ho finito e sono contenta di averlo fatto ho terminato, ce n'è rimasta veramente per un'applicazione qua ma non ne posso più anche di questo prodotto questo qua di Balea che è una gelatina per il corpo all'anguria e menta una buonissima profumazione è un gel freschissimo proprio un gel denso sembra quasi gelatina per i capelli quindi dà una sensazione molto rinfrescante per l'estate è ottimo per l'inverno insomma però ecco a parte il fatto che non idrata secondo me cioè oltre a rinfrescare non serve a niente e inoltre rimane molto molto appiccicoso sul corpo e quindi niente non acquisterò più questo tipo di prodotto sempre per il corpo ho terminato questo bagno doccia della linea Tropical Summer di Sien questo era un bagno doccia esfoliante aveva delle microperle all'interno aveva una profumazione che andava bene sia per l'inverno sia per l'estate mi è piaciuto ma non come esfoliante ma semplicemente come gel doccia quotidiano questi prodotti qua ogni estate Sien li ritira fuori ma io li trovo anche scontatissimi in quelle sceste dove ci sono prodotti in offerta e li trovo più o meno tutto l'anno quindi niente se trovate questi gel doccia io ve li consiglio ovviamente non hanno un buon inci però altro prodotto per il corpo che non è un campioncino viene venduto così è del marchio Dushael certificato IAB questo qua era una salviettina vedete fatta così una salviettina idratante per il corpo quindi invece di avere la crema in un barattolo era contenuta qua dentro è con bava di lumaca quindi abbiamo acqua bava di lumaca da agricoltura biologica glicerina insomma abbiamo un buonissimo inci l'ho utilizzata per le gambe e mi è piaciuta molto la profumazione non mi è piaciuta ma perché sa proprio di bava di lumaca e la bava di lumaca non ha un buon odore per quanto mi riguarda Giulia se stai guardando questo video sai di che cosa sto parlando ne abbiamo già parlato quindi l'odore non mi è piaciuto ma è proprio l'odore della bava di lumaca non è il problema di questo prodotto comunque molto adratante la pelle risultava veramente morbidissima setosa a me i prodotti con la bava di lumaca piacciono moltissimo e questo è molto comodo se si vuole qualcosa di molto veloce o se si va in vacanza e quindi non vogliamo stare a portarci dietro confezioni grandi ovviamente per quanto riguarda l'inquinamento questo tipo di packaging di prodotto non è proprio il massimo però se si viaggia molto è comodo ho terminato questo mini burro struccante alla moringa questo qua è di un marchio che penso sia e nature comunque è un marchio coreano mi era stato omaggiato al Cosmoprof con questo campioncino piccolissimo non so da quanti millilitri è comunque veramente molto piccolo io mi ci sono struccata tante volte perché ne basta poco un ottimo prodotto strucca molto bene non appanna gli occhi toglie via il mascara anche waterproof ombretti matite con una facilità incredibile io poi lo tolgo con un panno umido mi è piaciuto tantissimo non so come all'inci perché qua non c'è scritto però è un buon prodotto ho terminato anche utilizzato questa capsulina da mettere per i pedilubi della Yves Rocher alla lavanda non credo lo facciano più questo era un rimasuglio rimasto nel cassetto talmente piccolo che me ne sono scordata l'unica cosa che fa profuma di lavanda tutta la stanza e anche l'acqua è una buonissima profumazione ma niente di che costavano tipo 1,50 euro una roba del genere altro prodotto terminato che mi è piaciuto tantissimo di questo non vedrete la review perché ho visto che non lo fanno più non l'ho più trovato ho guardato anche su internet ma non lo trovo più insomma non credo lo facciano più della Bars Bees della linea Radiance era il detergente per il viso mi è piaciuto tantissimo veramente tantissimo è con pappa reale ragazzi è fantastico è nutriente non è pesante sulla pelle io ho una pelle mista però comunque l'ho trovato e mi è piaciuto tantissimo non bruciava gli occhi lavava benissimo una buonissima profumazione veramente peccato che non lo facciano più perché è un ottimo prodotto non costa pochissimo mi ricordo per 175 ml ma mi è durato tantissimo è veramente una coppola per il viso però niente non si può più comprare altro detergente viso che ho finito è questo qua in schiuma in mousse di Be On Me questo mi era stato omaggiato dall'azienda Alzana sono 150 ml certificato EcoCert mi è piaciuto tanto mi è piaciuta molto la profumazione che è molto delicata gradevole non per niente forte per niente persistente è una bella mousse corposa che non si andava poi a spare a sciogliersi così nel niente detergeva molto bene il viso non seccava la pelle non la tirava non bruciava gli occhi ottima qui c'è scritto che è indicato per pelli sensibili io la consiglio veramente a tutti anche per chi ha una pelle mista e quindi magari ha bisogno di una pulizia un pochino più profonda però alternare ogni tanto il detergente viso solito con un prodotto un pochino più delicato secondo me ecco la cosa migliore da fare e questo è veramente molto molto buono e mi è piaciuto poi ho terminato questa tisana mela d'oriente della Pompadour che mi aveva regalato Giulia per Natale mi è piaciuta tantissimo era una scasolina con non so quanti tè boh dieci non ne ho idea dieci bustine al gusto mela e fico secondo me si sentiva più la mela del fico comunque veramente molto molto buona mi ha accompagnato per tutto il Natale e gennaio mi è piaciuta grazie Giulia non l'avevo tra l'altro neanche mai vista dalle mie parti voi dovete sapere che a casa mia c'è un corridoio lungo che è buio perché quando non sono nel corridoio io tengo la luce spenta questo corridoio mi inquieta che voi non avete idea e il gatto è arrivato un rumore del corridoio buio che ce l'ho proprio di fronte in questo momento il gatto è schizzato è rancolla a me schizzato e è in posizione di attacco nel corridoio buio quindi io sto firmando questo video e ho la pelle d'oca per niente perché poi i gatti sono così però morirò di infarto ritorniamo a noi allora ho finito un po' di campioncini ho tantissimi campioncini e questo mese ho cercato di smaltirne un po' cerco di andare velocissima con i campioncini ho utilizzato proprio oggi questa crema lozione del trattante corpo di Alma Kay questo qua si può trovare si trovava alla Gardenia quindi credo da Douglas a questo punto comunque buonissima profumazione è un buon prodotto idratante ci ho fatto le gambe dalla caviglia al ginocchio e basta con questo campioncino ovviamente buon prodotto credo che non costi poco quindi non penso di acquistarlo poi ho usato proprio oggi questi due campioncini di shampoo di Alchemilla shampoo lucidante è un gloss shampoo non mi sembra di avere i capelli più gloss del solito tanta schiuma ha lavato bene non ha seccato capelli non credo di acquistarlo perché io e Alchemilla non andiamo d'accordo per varie cose terminato questo campioncino di crema viso purificante o faccizzante di natura equa un buon prodotto ma poi al tatto sembrava quasi di aver messo la cipria cioè era tipo un cream to powder come gli ombretti dava quella sensazione lì sul viso quindi non mi ha entusiasmato poi linea corpo crema tonificante di acquaria non mi è piaciuta la profumazione con questo campioncino ho fatto tutto il corpo ma non mi è piaciuta la profumazione quindi niente era troppo forte poi bagno doccia limone e agrumi di bottega verde aveva la profumazione è uguale alla colonia per i bambini della Kiko quella che usava prima tanti anni fa tipo 30 anni fa quando sono nata però mamma mia questo profumo mi piace un sacco un bagno doccia normale ma questa profumazione è fantastica perché mi ricorda appunto varie cose finito shampoo concentrante concentrante concentrato di biofficina toscana purificante l'ho utilizzato diluito un buono shampoo ma non mi ha fatto dire wow neanche questo poi ho terminato il gommage viso di marilu bio un marchio francese ha un ottimo effetto scrabbante fa un po' effetto sabbia sembra quasi appunto di spalmare la sabbia comunque è delicato sulla pelle non avevo più i punti neri e poi ridilatati e qui ci ho scritto ci ho appiccicato un fogliettino con scritto tienilo il che vuol dire che me lo metto da parte per acquistare la full size poi ho terminato questo detergente intimo della linea L di natura house un buon prodotto niente da dire buono ho terminato poi questa crema corpo nutriente di bio lady qua ha un ottimo 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 profumo mi è piaciuto tantissimo però è una crema un po' unta quindi per questo non la comprerò poi natura siberica questo è un latte detergente mi è piaciuto tantissimo veramente ottimo il profumo non mi è piaciuto non mi ha fatto impazzire qua mi sono prese degli appunti la pelle l'ha lasciata nutrita e morbida e anche qua tienilo quindi mi è piaciuto molto poi ho terminato di bio point della linea ayurveda ho terminato la maschera e lo shampoo la maschera è un boh non mi ha detto proprio niente lo shampoo ha una profumazione ottima e rimane persistente anche su capelli capelli molto puliti però molto piatti quindi anche questo niente poi ho terminato l'esfoliante il siero esfoliante di purofi anche questo per me è stato un boh è un esfoliante è un'esfoliazione enzimatica boh come non farlo poi ultimo prodotto contorno occhi di itria non mi ricordo comunque questo qua è con cellule meristematiche dell'uva mi è piaciuto molto buono non era il primo campioncino che provavo è veramente un buon prodotto non mi ricordo però dove si possono trovare i prodotti di itria quindi questi erano i miei prodotti finiti del periodo se il video vi è piaciuto lasciate un like un commento e iscrivetevi al mio canale io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao